La Paragono è il 2008 quando abbiamo strappato a Fernetti le sbarre con la Slovenia e oggi abbiamo passato questo confine, non c'era nessuno, una soddisfazione enorme e poi penso a quello che succederà, sai, Trieste, immagina, Vienna, Ljubljana, Zagabria, Venezia, al centro c'è Trieste, ci saranno grandi collaborazioni, un grande sviluppo turistico sicuramente, poi anche la moneta unica porterà a un beneficio anche questo perché la gente girerà tranquilla, senza problemi, proprio guarda, è un bellissimo momento, proprio ho ricordato quel concerto con il sviluppo di Turchia e Napolitano, mi si è aperto il cuore oggi, trapassando il confine, dopo ti ricordi Borut Paco con Mattarella, su Abbasovic, insomma, momenti interessanti, oggi è un altro momento di questo, sono arrivato proprio a Fiume con una voglia incredibile di collaborare, di fare cose belle per questa regione.